altri incontri perché tu come ti chiami? Tu che mi hai proposto di altra arte. Michele Lella. Michele Lella poco fa mi ha proposto di fare degli altri incontri che forse faremo non questa martedì ma quell'altro. Parleremo proprio di antorigine, fuori di creazione. Chi è che ha scoperto il funzionamento del DNA dal punto di vista frequenziale? Ultimamente è un russo, Piotr Gariyev, che ha scoperto addirittura che non solo il DNA, che non si sapeva già da prima, è a sezione Aula, ma addirittura ha scoperto che si comporta come una radiotrice trasmittente che lavora a 150 milioni di hertz. 150 megahertz, sì, quindi ho detto di là, 150 milioni di hertz. 150 megahertz. Non mi sto a dilungare, però ve lo dirò in quella circostanza perché noi vediamo il colore blu. Perché la luce invece non dovrebbe avere colore di afro. Perché vediamo il colore blu ce lo spiegherai, ma ve lo dirò prossimamente, altrimenti andiamo fuori seminato. Questo vuole dire i maggiori fisici che, da un punto di vista musicologico, possiamo considerare. Lo vediamo John Waller-Keeley, nel suo laboratorio del 1889. John Waller-Keeley ha costruito dei sistemi antigravitazionali basati sugli ultrasuoni. Però, come al solito, era contemporaneo di Edison, è stato messo da parte dalla stupilità scientifica ufficiale. Guardate questo altro esperimento, proprietà dei calvitazionali del suono che ognuno può fare a casa. Sulla destra c'è un'ozida, ma ci potete mettere benissimo una chitarra, con un amplificatore che è collegato a una colonna di vetro, riempita d'acqua alla fase della quale c'è il ferro, polvere di ferro. Per potendo le conte dello zittaro, della chitarra, la polvere di ferro, per convibrazione dei suonanti che comincia a salire verso la superficie. Ed ecco l'altro grande fisico, forse il più grande di tutta la storia della fisica. Nikola Tesla, Nikola Tesla, se ricordo bene, è serbo che lo dice, è vero? E poi i micro negli Stati Uniti, ha fatto tutti, la maggior parte dei premetti che conosciamo oggi, e perché l'ho messo? E perché lo vediamo anche qui? Perché oggi, parlando di HALP, devo anche denunciare un'appropriazione indebita da parte di Islund, che ha preventato un progetto Tesla e gli Stati Uniti, i servizi segreti statunitensi, gli hanno dato il premetto, invece non potevano farlo perché è un premetto Tesla. Questa è una frase che ho preso dal blog di Franceschetti, giusto si chiama? Di Solange. E di Solange, Manfredi, che oggi ha parlato dei complotti sotto false flag, cioè sotto false bandiere. Perché noi che parliamo di queste cose, e vi dovreste chiedere chi ve lo fa fare? Allora, già questo mi dovrebbe mettere sull'avviso di chi invece vi imbottisce di idee sbagliate. Sapete che parlare di questi argomenti significa mettersi in una condizione di emarginazione, quantomeno rispetto alle proposte culturali dell'intera società. E allora, senza voler offendere nessuno, perché non c'è mai la volontà di offendere, ma semplicemente di aprire la mente, io vi leggo questa frase, che è fondamentale per il nostro incontro. È pur vero che il comportista, perché noi siamo definiti comportisti, sapete? George Bush, dopo che era stato ripreso, mentre la guerra del corpo, come ha detto stamane, mi si avvicina e mi dice «Signor Presidente, siamo stati attaccati da un atto terroristico ignominioso ai due torri, sui in tavola, se lui dice «Qual è il primo e il secondo aereo?» Non poteva sapere che non era. E George Bush ha continuato a dire «Questi sono i complottisti che parlano di queste cose che noi ci siamo auto-abbattute le due torri». È pur vero allora che il complottista può anche essere un pazzo visionario, ma è altrettanto vero che l'anticonglottista, essendo uno che critica ciò che non conosce, di conseguenza è un cretino perché pensa che la realtà finisca dove lui ha deciso che debba finire. Io aggiungerei che altri hanno deciso per lui che debba finire, perché noi siamo il prodotto, come dice David Aik, e David Aik dice «La scuola è un abuso legalizzato sui minori». Io sono profondamente d'accordo, l'ho scrissi sulla mia lavagna in conservatorio due o tre anni fa e questa frase ha fatto il giro delle scuole di Foggia. Siccome dobbiamo parlare di ionosfera, perché la HAARP lavora sulla ionosfera, la ionosfera è quella sorta di bolla di sapone, mi piace chiamarla, bella spessa, che va dai 60 fino ai 500-550 km di altezza, che emette una risonanza. Sapete che ogni volta che c'è un involgro che racchiude un altro corpo, come succede in musica, inevitabilmente c'è una risonanza, c'è un suono in pratica. Questo suono naturalmente non è acustico, non è percepibile perché è elettromagnetico, ma è sempre un suono. Come disse il domolecchio, attenzione, tutto esiste, è solo una variazione di frequenza. Quando l'acqua, per fare un esempio semplicissimo, quando l'acqua diventa vapore o diventa ghiaccio, non ha cambiato stato molecolare. Se prendiamo l'acqua e la sottoponiamo a un bombardamento ultrasonico, evapora, cioè diventa vapore. Se invece ne abbassiamo il livello di vantaggio, diventa ghiaccio. Che cos'è l'acqua? Ecco perché abbiamo costruito la caldaia idrosonica, che invece di arrivare l'acqua fredda al bruciatore, arriva l'acqua a 90 gradi, perché riscaldarà una semplice, piccolissima energia elettrica di ultrasoni che combattano l'acqua e arriva l'acqua già prescaldata. Con il risparmio non l'hanno preventata per il 90% del risparmio. Si sono dovuti mantenere al 50%. Queste caldaia sono già montate negli istituti pubblici, polizia, vigilante fuoco e così via. Vedete quante cose ci nascondono? Questa è anche la ionosfera di nuovo. La ionosfera, sapete, serve per trasmettere le onde radio. Anche questo è fondamentale perché è il discorso successivo. E tra l'altro le comunicazioni aumentano durante la notte, perché durante la notte ha avuto questa trasmissione più efficiente ed efficace, anche perché durante la notte sentiamo radio pepino, radio mosca o radio pepioic, per fare il marconneggio. Questa è una fotografia che evidenzia, in definitiva, la ionosfera rispetto alla Terra. All'interno della striscia più in alto e della Terra in basso c'è questa risonanza acustica. Dove ha sede? HAARP, High Frequency, cioè questo sistema di ricerca sull'aurora attiva, a Giacona, in Alaska, a 300 km al nord di Anchorage, vedete a sud, in basso, che è una delle città più importanti dell'Alaska. Questa è un'immagine stilizzata che mi fa vedere meglio la posizione di Giacona rispetto a Rancoreggia a Fairbanks, dove c'è l'università che collabora a questo che non è più un progetto, attenzione, perché il progetto è iniziato all'inizio degli anni 90, adesso è ormai un dato di fatto, tanto è vero che io non lo chiamo più progetto, ma lo chiamo sistema. Questo è di nuovo Giacona ed ecco che cosa si vede dall'alto delle montagne, delle colline circostanti, in fondo vedete l'osservatorio, quello che viene spacciato come osservatorio, vedete l'ionosfera, ionospheric research observatory, ci sta scritto all'entrata di questa struttura, che invece fa tutt'altro. Ci sono queste antenne che sono 22 metri di altezza, di 22 metri di altezza, ce ne sono 360 ormai, che sono in grado di sparare a terra attraverso l'ionosfera fino a 10 gigawatt, 10 miliardi.